Insalata di pesce crudo alla giapponese con olio di extravergine di oliva coratina, calamarata con ceci, gamberi, bottarga ed extravergine, stracotto con passata di patate ed extravergine, baccalà su pinzimonio invernale, zimino di bietole ed extravergine di coratina e per concludere in bellezza mille foglie all'extravergine di coratina con mousse di patate e ricotta su gelatina di mele cotogne e mandorle pralinate. E questo è il sontuoso menù a base di extravergine di coratina dall'antipasto al dolce preparato da chef di tutto il mondo tra i quali un americano e un giapponese che hanno preso parte a Cuoco 2011. La prestigiosa Kermesti Cucina, giunta alla dodicesima edizione, si è svolta nella tenuta cocevola di Andria. Un evento pensato per promuovere un territorio che fa proprio della cultiva al coratina il suo fiore all'occhiello e per ribadire le proprietà benefiche dell'olio extravergine di oliva. Credo che sia un doveroso da parte nostra promuovere questo nostro prodotto di eccellenza e lo facciamo in un momento particolare come quello legato a Cuoco che è rigiunta alla dodicesima edizione ma con una diversificazione che punta molto a spiegare, a far conoscere meglio il nostro prodotto. Non a caso abbiamo voluto quest'anno lanciare questo slogan di profumato piccante amaro buono per la salute perché vogliamo far emergere quelle che sono delle peculiarità, delle caratteristiche specifiche di un olio che devo dire nella maggior parte dei casi viene percepito come un difetto. Noi invece stiamo facendo questa promozione per far capire alla gente che quando un olio è amaro o leggermente amaro o piccante o leggermente piccante vuol dire che hanno di fronte un ottimo prodotto, un prodotto che fa bene alla salute, fa bene al condimento, fa bene all'alimentazione. A presiedere la giuria composta da numerosi giornalisti Paolo Marchi curatore e ideatore di identità golose, congresso internazionale di cucina d'autore e Oscar Farinetti fondatore di Italy, il progetto internazionale che lo stesso Farinetti porterà presto nella fiera dell'Evante di Bari con un padiglione dedicato al buon cibo. Sono venuti qua i miei cuochi di Italy da tutto il mondo, è arrivato Alex Pilas che è il nostro executive chef di New York, lui fa lavorare 500 persone sulle 700 che lavorano in New York e su quelle che si occupano di cibo e lui farà la pasta all'olio. È arrivato il grande Google Chatti che è il nostro vero capo di tutta la cucina di Italy e lui ha questi ristoranti stellati che si chiamano Guido e lui farà la carne all'olio. È arrivato Enrico che è il nostro chef da Genova, specializzato nel pesce, un giovane cuoco di 25 anni, grande promessa che farà il pesce all'olio e sono arrivati anche il nostro grande cuoco giapponese, di cui non ricordo il nome perché è molto complicato, Isatsu qualcosa che è bravissimo e che farà il sashimi. Negli Stati Uniti qual è la percezione del nostro olio? Molto buona dell'olio extravergine italiano in generale, è molto difficile ma noi ci stiamo provando e ci riusciremo a far capire la biodiversità, dobbiamo far capire agli americani le grandi differenze sui grandi oli extravergine italiani e insegnarli ad abbinarli in maniera diversa secondo dei cibi che fanno.